Certo è stata veramente un'esperienza, userei il termine, straordinaria, nel senso che la partecipazione è stata molto ampia, di circa 200 ragazzi in tutte le scuole della provincia, con 110 lavori di varia natura, video, manifesto, composizione e non è stato sempre facile inquadrarli, anche perché alcuni erano magari tecnicamente superiori rispetto a quelli che avevamo scelti, però affrontavano non tutti e tre i temi, lavoro, cibo, democrazia, ma magari un solo tema e quindi abbiamo dato un premio che mettesse assieme la qualità tecnica alla capacità di cogliere i contenuti.